Ciao Alma, sono Tom, lieto di conoscerti, Alma. 3587 per 982 diviso 731? 4818,65116. Mi hanno sottoposta dei test, hanno esaminato il mio cervello, ho risposto a un'infinità di questionari, e qual è il risultato? I tuoi occhi sono come due splendidi laghi di montagna in cui potrei annegare. Sono nel comitato etico e ho bisogno di una tua valutazione, e il compagno dei tuoi sogni è già stato creato per te. Devo dire che hai davvero buon gusto. E questa è la tua camera. Quindi non dormirai insieme a me? Buongiorno Alma, ho messo tutto in ordine. Questo è quello che sogna il 93% delle donne tedesche. E prova a indovinare a quale gruppo appartengo io. Al 7%? Lì c'è un uomo. Quello non è un uomo. Wow. È un robot. Se ti aprissi con me, saresti più felice. Andrò a restituirti alla fabbrica! Buongiorno. Forse non te ne rendi conto, ma tratti Tom come una macchina. Perché ti comporti in questo modo? Perché lui è una macchina? C'è un abisso tra noi. Ci sono cose che non puoi capire. Tutti ti trovano fantastico. Tutti tranne te? Possiamo dimenticare tutto solo per un giorno. Chi sei tu o chi sono io. Corriamo insieme sul prato. Corriamo a piedi nudi. Arrivo! Loro ci rendono felici. E cosa può esserci di sbagliato nell'essere felici? Ma non sono i nostri desideri irrealizzati. La nostra immaginazione. È la nostra infinita ricerca della felicità. Ciò che ci rende umani. Non può parlare? Tom può anche parlare. Tom è un robot estremamente socievole. Mi sta prendendo un giro per caso. Sì. Scusa. Non ho resistito.